135 anni dalla scomparsa di Giuseppe De Nittis. Scopriamo come l'amministrazione comunale di Barletta ha omaggiato il celebre impressionista barlettano. Accesso gratuito alla Pinacoteca ospitata nel Palazzo della Marra, così l'amministrazione comunale di Barletta ha inteso ricordare Giuseppe De Nittis a 135 anni dalla sua scomparsa. L'impressionista è morto nel 1884 in Francia ed è stato poi sepolto a Parigi. Sua moglie Leontin ha donato molti quadri alla città natale del pittore, Barletta appunto, conservati proprio nella Pinacoteca De Nittis a Palazzo della Marra. La Pinacoteca, conosciuta anche come Casa De Nittis, custodisce il valore artistico del pittore con allestimenti e percorsi espositivi che coinvolgono emotivamente lo spettatore e ricordano la maestria e le tecniche pittoriche dell'artista.